Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, benvenuti, good morning Milano, Crystal Radio, Milano News, 7.08 in questo istante, benvenuti di nuovo qui con l'ultima giornata di trasmissioni della settimana. Oggi è venerdì, thanks God is Friday, è sempre bello quando si dice che è venerdì, soprattutto iniziare la mattina, alle 7 del mattino, dicendo, raga, oggi è venerdì, wow, e quindi che programmi avete per il weekend? Sicuramente avete già programmi per il weekend, dove andrete a mangiare? C'è qualcuno che va a sciare? So che c'è ancora qualcuno che in questo periodo prende in pavido e va su per le montagne a fare ore e ore di coda, a spendere mezzo stipendio per uno schipass, però so che, insomma, ci sono anche dei bellissimi posti, quindi, insomma, mi raccomando, fatevi un bel weekend, siete alle porte di un favoloso weekend. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5, è il nostro numero di Whatsapp, io ce l'ho qui davanti, basta che mi scrivete, mi raccontate, voglio sapere dove andate questo weekend, così, voglio sapere cosa avete in programma. Ma io sto qua, io non vado di una parte, sto qui ma ho tante cose da fare, tra cui anche imbiancare casa, quindi, insomma, ce ne sono di cose da fare. Se anche voi avete un weekend do-it-yourself, fai-da-te, dove dovete sistemare casa, fatemelo sapere che almeno ci facciamo support, ci supportiamo insieme, così facciamo malcomune, mezzo gaudio. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5. Ed eccoci qui, quindi si inizia, incominciamo a raccontarvi un po' tutto quello che succede nella nostra città, tra poco avremo anche il collegamento con luce verde per avere le indicazioni sul traffico, ma prima incominciamo a leggere i nostri ascoltatori, perché ci avete scritto, allora, cosa dice il buon Alberto? Ah, vedi, ci dice cosa fare un weekend, perché al 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5, c'è scritto, e finalmente è venerdì, è vero, è vero, ve lo ripetiamo tutti insieme, Thanks, God, it's Friday! T-G-I-F, vale, non T-G-I-F, credo sia una cosa del genere, c'è anche l'hashtag da qualche parte. Comunque, Alberto dice che un saluto e un buongiorno a Fabio e a tutti gli ascoltatori di Crystal Radio, buongiorno anche a te Alberto. Gita inoltre Po, vedi, ecco qui cosa fare un weekend, il ristorante, i visiti ai parenti, questo è il programma del weekend. La parte ristorante mi piace molto, devo dire, se posso, non sono parente, ma se posso aggregarmi non mi dispiacerebbe, perché insomma, ristorante inoltre Po sono una di quelle zone che, diciamoci, noi a Milano facciamo tanto i fighi, no? Ah, Milano, Milano, se non sei di Milano, a Milano c'è tutto, no, capito? Poi però per andare a mangiare, sempre in giro andiamo, perché c'è poco da fare, i posti migliori sono non tanto distanti da Milano, ma non sono a Milano, e quindi c'è l'oltre Po, o si va su nelle valli, oppure si va in Valtellina, i pizzoccheri, i casonsei, dalle parti di là della Bergamasca, oppure si va in Piemonte, chi è che piace anche a voi? So che alle 7-13 minuti parlare di bagna cauda è un po', ma, cioè, avete presente cosa non è la bagna cauda? Anche se è difficile trovarla anche in Piemonte, io devo dire che ho le mie spie, i miei inviati, i miei uomini in Piemonte, come un uomo a Lavana, no? Io ce l'ho a Cuneo, ce l'ho a Pinerolo, ma non è così facile trovarle la bagna cauda. Però, insomma, davvero, quando vogliamo fare un weekend, cioè a Milano c'è tutto, perché mi raccomando, c'è cinema, teatro, tutto quello che volete, ogni sorta di cucina regionale, europea, internazionale, intercontinentale e anche oltre. Io mi aspetto che poi aprirà tipo un ristorante di tipica cucina di Venere, tipica cucina di Plutone, cioè secondo me poi succederà a Milano, però se vuoi la tradizione, se vuoi assaggiare qualcosa di buono, se vuoi vedere dei bei posti, c'è poco da fare, ti devi ciappare la macchina e andare fuori. Cioè, così è. Così è, così è, così è. Oggi è il 26 di gennaio. Che cosa è successo nel mondo? Ma allora, vabbè, 119 anni fa, nel 1905, pensate, è stato rinvenuto il diamante più grande della storia. Pensate, sì. Venne acquistato in Sudafrica, ovviamente, vabbè, la zona dove, insomma, si sa che ci sono i grandi compratori, i venditori dei grandi grandi, ma soprattutto parliamo dei nati oggi, nati oggi per la musica, Eddie Van Allen, quello di Van Allen, sì. Jump, jump, quella roba lì. Poi, Daniele Luttazzi, 63 anni fa oggi, Daniele Luttazzi. Tanti auguri a un comico e a una persona un po' troppo spesso dimenticata. E poi, Paul Newman. Paul Newman, 1925, bravissimo attore, insomma, sappiamo che è. Ma, parlando di sport e di un pezzo di Milano importantissimo, José Mourinho. Insomma, l'allegatore del triplete, José Mourinho, oggi, nel 1963, nasceva. Quindi, 61 anni, auguri al mister Mourinho. Insomma, è importante. E, soprattutto, nel 1956, iniziavano le Olimpiadi di Cortina. Sapete cosa c'è? Oggi mancano 100 giorni, così se ho letto bene, all'inizio del Giro d'Italia. E passerà anche da quelle parti. Quindi, così, volevo unire le due cose. Pinguini, tattici nucleari, rubami la notte. Abbiamo parlato di Olimpiadi. Abbiamo detto che nel 1956, proprio oggi, 68, 68 anni fa, iniziavano le Olimpiadi Invernali a Cortina. Ma, proprio oggi, cioè ieri, in realtà, sono stati i 100 giorni dall'inizio del Giro d'Italia. Perché vi dico questo? Perché passerà anche da Smedalivigno, passerà anche da zone, in tante zone della Lombardia passerà, in realtà, il Giro d'Italia. E ieri sera si sono illuminate di rosa le città delle tappe, in cui passerà in Lombardia. Parliamo di Desenzano del Garda, Manerba, Livigno e Castiglione delle Stiviere. Tutto questo, non so se avete notato, manca Milano nella lista. Allora, sapete la mia battaglia per riportare il Giro d'Italia a Milano. Trovo ancora assurdo che non ci sia ancora, che quest'anno, una tappa che passa, che passi da Milano, passa vicino, neanche tanto. In realtà la Lombardia arriva, no, perché da Novara salta l'altra parte della parte di Desenzano. Quindi, insomma, mancano un po' di tappe in mezzo. Cioè, non c'è niente, c'è proprio un vuoto in mezzo che è la zona della Lombardia, soprattutto quella di Milano. Vabbè, parlo di sport perché appunto poi oggi è anche il compleanno di Giuseppe Murigno e anche perché è una giornata triste per lo sport, perché nel 2020 ci lasciava Kobe Bryant. Eh sì, Kobe Bryant ormai quattro anni fa ci lasciava proprio oggi, il 26 di gennaio. Mi prendo un attimo di spazio per una notizia, per ricordare una persona a me cara che invece ci ha lasciato ieri, è Bruno Bogarelli, è stato direttore di Sport Italia, quindi parliamo sempre di sport, è stato anche uno dei miei primissimi direttori, quindi lo ricordo davvero con tanto affetto e soprattutto ricordo un rivoluzionario, un visionario. Bogarelli ha inventato Sport Italia, cioè la prima, pensate, la prima televisione in chiaro che parlasse solo ed esclusivamente di sport. Un po' sul modello Eurosport, ma insomma portata nelle tv di tutti noi. Un'esperienza quella con Bogarelli davvero fantastica e ricordiamo essere colui che negli anni Ottanta portò in Italia l'NBA. Cioè portò in Italia l'NBA e da lì nacque poi Dan Peterson e con le reti di Berlusconi riuscì appunto a espandere anche la pletora di fan dell'NBA che insomma fino a quel tempo erano orfani del non poter vedere nulla in televisione in Italia, invece lui comprò i diritti, li portò in Italia e fece diventare il fenomeno NBA, uno fenomeno anche qui in Italia. Ci ha lasciato ieri, ci ha lasciato troppo presto, non lo so, sicuramente ci ha lasciato un grande vuoto e ha lasciato però tanto tanto di quello che ha fatto e quindi io volevo appunto ricordarlo qui anche dai microfoni di Good Morning Milano perché insomma anche un uomo che a Milano ha fatto tanto e parlando di sport non potevo non ricordare appunto Bruno Bogarelli. Ciao Bruno. Ed è Pink, All Out of Fight, 7 e 25 minuti, fra poco ci fermiamo, anzi stiamo per fermarci per una piccolissima pausa ma dopo di noi Eri B con gli eventi della settimana a cui lei non andrebbe. E poi abbiamo anche una telefonata e sì perché ci collegheremo con la biblioteca di condominio Falcone Borsellino perché domani, giornata da memoria, ci sono delle iniziative interessanti da raccontare. Tutto questo qui su Good Morning Milano in diretta a Cristal Radio. Lady Gaga Bad Romance Ed eccola qui la sigla perché è arrivata lei! Sono arrivati gli eventi della settimana a cui io non andrei! E benvenuta Eri B! Buongiorno a tutti! Gli eventi della settimana a cui tu non andresti. Buongiorno a tutti! Anzi, vogliamo levarlo sto... gli eventi della settimana a cui tu non vai! Ma lasciamo il dubbio! Ok, va bene! Non si sa mai perché ogni tanto ci sono delle cose che dico vabbè lo metto però... Ok, vabbè, iniziamo! Iniziamo allora gli eventi della settimana a cui Eri B non andrebbe. Allora, ci sono tantissimi eventi questo sabato. Volontariamente non ho messo niente per il giorno della memoria perché io andrei a tutti gli eventi del giorno della memoria. Bel disclaimer! Ok, quindi il primo evento dove io non andrei è un po' lontanuccio, è a Carate Brianza, però mi piaceva tantissimo la descrizione. Cioè per Eri B è al confine del regno. Sì, sì, non so neanche dove sia io Carate Brianza, però so che è lontano, c'è Brianza quindi è lontano. Quindi il primo evento è dedicato ai bambini e si chiama Asinelli che passione! Per bambini dai 6 mesi ai 3 anni ovviamente andranno a giocare con gli animali. Organizzata presso la tribù degli zoccoli alla casa degli animali di Carate Brianza, costa 15 euro a bimbo con ovviamente un accompagnatore. Però se gli accompagnatori sono due ci metti 5 euro in più. Ecco, ti piacerebbe andarci? Beh, le Asinelli sono carini. Non lo so, secondo me c'è tanta puzza. Poi andiamo avanti. Sempre per i bambini e i ragazzi, in realtà questo è un evento che mi piacerebbe se avessi l'oggetto. Cioè alla graffetta, che è la cartoleria all'interno di Cascina Merlata, che tra l'altro è un nome bellissimo, complimenti perché è veramente bello. Ci sarà uno scambio di figurine. Ah, bello. Sabato dalle 16 alle 18 nei pressi della cartoleria ci sarà questo incontro tra ragazzini. Ma anche vintage o solo dovrebbe essere solo figurine? Non lo so, non hai specificato. Inizio quella dell'NBA degli anni 90. Andresti a scambiarle con qualcosa? Ma neanche morto. Eh, quindi statene a casa tua. Giusto. E vai avanti a bancare, come avevi detto. Poi, due musiche, due cose musicali. Ok. Il primo c'è un concerto d'arpa all'Ulme di Candela nella chiesa di San Bernardino alle Monache, che è in zona Carrobbio. Ok. Dalle 17 alle 20 di domenica. L'organizza Lombardia Segreta. Se volete andare, andate. Io mi ci vedo già lì che sto dormendo. Però vabbè. Invece un evento dove assolutamente non andrei e sicuramente se ci andassi non mi addormenterei è il concerto di Gabri Ponte ad Assago. Un grandissimo concerto per il ritorno di Gabri Ponte. Tu, Fabio, ci vorresti andare? No. Ok, perfetto. Va bene, siamo sulla stessa linea d'onda. E poi ci sono due cose, in realtà, che potrebbero anche quasi interessarmi. La prima è la Festival del Fumetto. Al parco di esposizione di Novegro, il 27 e il 28 di gennaio, ci sarà appunto il Festival del Fumetto. L'unica cosa per cui non ci andrei è che effettivamente ci saranno tanti travestiti da cosplay. Ma questa cosa non fa molto impazzire. Però vabbè, fa niente. Se voi volete andarci, andateci e divertitevi. L'ultimo evento a cui sicuramente non andrò, ma mi piacerebbe andare, ma costa veramente tanto, c'è la Milano Tattoo Convention. Milano Tattoo Convention? Perché se no ti piacerebbe andarci? Sì, mi piacerebbe andare, mi piacerebbe più che altro per capire se ti fanno poi i tatuaggi a gratis pagando il biglietto. Ma no, te lo dico già io. Comunque il biglietto per tre giorni costa 60 euro. Sì, ma non te lo fanno i tatuaggi a gratis. Un giorno soltanto costa 25 euro. Ma comunque potete andarci, inviamo un cucco in zona famagosta, divertitevi e fatevi tanti, tanti, tanti brutti tatuaggi. Ma perché non fate quelli brutti? Perché sentenzialmente la gente mi piace i tatuaggi brutti. Ma non è vero, dai, c'è roba bella in giro. Sai che la nostra viola è piena di tatuaggi? Ho scoperto, non se ne vede uno, ma mi ha detto che è pieno di tatuaggi. Io invece sabato andrò a farmi un piercing al naso. Vedi? Alla veneranda età di 40 anni. Se 50 anni ti mette a fare il piercing al naso. Esatto. Vabbè. Va bene, c'è qualcuno di questi eventi a cui tu vorresti andare? Gassinelli. Gassinelli mi piace. Peccato, non puoi andare perché costa 15 euro solo per i bambini, dai sei mesi ai tre anni. Cosa fa un bambino di sei mesi come un asinello? È ottobre. Non è che non puoi neanche sederci sopra. Non lo so. Comunque, se volete andarci a Caratebrianza, divertitevi e arrivederci. E vabbè, questi sono gli eventi della settimana a cui Eribi non andrebbe. Voi avete qualche idea di cosa fare? Ad esempio, Alberto ha detto che vai un'oltre po' a mangiare al ristorante. E voi altri? 331-78-53-555. E andiamo avanti con la musica. Quella, ma non dico niente, anzi guarda, la faccio partire e basta. Questi sono, non vi dico neanche chi sono. Mattia Bazzar con Ti Sento. 7.45 minuti. Continuiamo con gli ospiti qui a Good Morning Milano perché abbiamo un collegamento telefonico con il bravissimo e interessantissimo perché fa delle cose veramente, veramente interessanti. Luciano Vacca. Buongiorno Luciano. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie mille, grazie a essere qui. Bravissimo, ricordi bene radioascoltatori e videoascoltatori perché effettivamente noi siamo sia in radio che poi volendo ci potete rivedere in diretta su Milano Agliuso. Puoi rivedere anche con il video podcast, con tutte le immagini e tutti i nostri contributi sul nostro sito. Luciano, ti ero chiamato perché questa sera nella vostra biblioteca di condominio, che già solo così mi piace, poi si chiama Biblioteca di condominio Aler Falcone Borsellino, cioè non c'è un nome più bello che potete dargli, ha fatto un'iniziativa molto interessante in vista appunto della giornata della memoria di domani, giusto? Sì, la giornata della memoria è domani, però noi di solito le iniziative culturali facciamo il venerdì pomeriggio, quindi alle 18. Questa sera l'iniziativa la dedichiamo a un focus particolare che riguarda sempre la giornata della memoria. Abbiamo un esperto di storia, di storia della Polonia e questa sera terrà una sostanzialmente un convegno, una conferenza dedicata alla storia della Polonia, quella contemporanea, moderna contemporanea e approfondendo le ragioni, i motivi per cui gran parte dei campi di sterminio dei nazisti furono creati sul territorio polacco, quindi anche le ragioni sociologiche, antropologiche che permisero anche per lungo tempo di mettere in mano. Insomma, domande che magari spesso ci siamo fatti e possiamo avere delle risposte questa sera appunto alle ore 18 presso la vostra biblioteca di condominio. Luciano, ricordaci un attimo che cos'è una biblioteca di condominio e cos'è la vostra biblioteca di condominio, perché poi non è una, è la vostra biblioteca di condominio. Sì, la nostra biblioteca di condominio l'abbiamo dedicata emblematicamente a due giudici che sono stati eroi della nostra storia, giudici Falcone e Borsellino. La ragione per cui abbiamo dedicato a questi giudici è perché la biblioteca di condominio è il lavoro, il risultato di un lungo lavoro ormai decennale di un gruppo di cittadini, quasi tutti inquilini delle case dell'area di via Giulio Belinzachi, che hanno dato battaglia all'illegalità che primeggiava nel nostro condominio. Oggi tutto ciò non esiste più e ci permettiamo fin anche di fare una conferenza dedicata ai campi di esterminare la Polonia. Insomma, è interessante perché appunto la cultura ha riuscita a prendersi uno spazio, uno spazio proprio fisico e togliere invece spazio all'illegalità che come diceva appunto serpeggiava all'interno dei vostri caseggiati. Adesso invece c'è cultura, c'è conoscenza, c'è anche poi comunque un gruppo di condomini che ormai si è coeso intorno a questo luogo anche. Si è consolidato nel corso del tempo e questo avviene perché si fanno delle cose insieme sostanzialmente. Ma la biblioteca di condominio oggi, Falcone Borsellino, è diventata una biblioteca che attrae i cittadini da tutto il quartiere. Noi oggi pomeriggio avremo decine e decine e decine al punto tale che non potremmo neanche ospitarli tutti nella biblioteca che provengono dal quartiere. I feedback che io ho ricevuto, le prenotazioni per stasera sono davvero tanti. Bello. Beh insomma è interessante che appunto diventa un luogo simbolo non solo per il condominio a quel punto ma diventa un luogo simbolo importante per tutto il quartiere. Ricordiamo appunto via Giulio Belinzaghi all'undici, zona, ricordiamo anche la zona così perché... Zona Macciacchini, si scende dalla metropolitana Macciacchini, via Le Marche, la prima attraverso a destra via Belinzaghi. Ecco, più facile di così, abbiamo anche meglio del tutto città, guarda, perfetto. E dicevo, importantissimo che questa cosa appunto viene fatta poi in un caseggiato aler e con tutto un quartiere che a questo punto vuole bene e aiuta anche al buon svolgimento dell'iniziativa. Era uno dei nostri obiettivi, quelli di obiettivi strategici, era quello di creare una relazione vera, costante tra quelli che abitano all'interno del caseggiato e quelli che stanno nel quartiere e che non abitano nel caseggiato. Le risorse sono state messe in campo poi i risultati sono stati prodotti. Ecco, dicevo, pensavo adesso, ormai è quasi riduttivo biblioteca perché veramente siete diventati un centro importante all'interno del quartiere e non fate solo... non si viene lì solo per prendere un libro ormai, cioè non è più questo, giusto? No, no, cioè da noi, noi facciamo parte di un progetto anche più ampio del comune di Milano che stimola, alimenta, favorisce la creazione delle biblioteche di condominio. Quindi da noi due volte a settimana, il mercoledì e il venerdì dalle 17.30 alle 19.30 si può venire, consultare il materiale librario, prenderlo in prestito come qualsiasi altra biblioteca del comune di Milano, ovviamente restituirlo... Non è scontato, bravo, Lucia. E se no io li chiamo, insomma... Attenzione! Eh sì, perché noi, insomma, il materiale librario che abbiamo accumulato è anche quello, un lavoro che abbiamo fatto di raccolta, di selezione, di catalogazione, eccetera, eccetera. E poi noi, quasi tutte le settimane, facciamo iniziative culturali di vario tipo, quindi dalla presentazione dei libri, piuttosto che dalle conferenze, piuttosto che dai convegni, abbiamo ospitato un convegno dell'UNESCO un paio d'anni fa, ci siamo confrontati in presenza con esperienze di Barcellona, di Londra. Insomma, è una realtà da conoscere, questa sera avete la possibilità, se volete, alle ore 18, appunto, alla biblioteca di condominio Falcone-Borsellino, in via Giulio Belinzaghi, all'11. Luciano, grazie mille e buona iniziativa per questa sera, allora. Grazie a te e grazie a tutti i nostri radioascoltatori e videoascoltatori, grazie e buona giornata. Grazie a te Luciano e allora noi andiamo avanti, andiamo avanti con un po' di musica, sono i Club Doggo, sapete, ne parlano tutti e un pezzo storico dei Club Doggo, non potevamo che ascoltarlo qui, su Cristian Radio, a Good Morning Milano. Gli Inks con Need You Tonight, era il nostro Crystal History delle 8, ben ritornati a Good Morning Milano. Ebbene sì, allora sono le 8 e 05 di oggi, venerdì 26 gennaio, ne approfitto intanto per fare gli auguri a un mio amico, auguri Alex, buon compleanno anche qui da Good Morning Milano, tanti auguri a te. Se anche voi dovete fare gli auguri a qualcuno, 331-78-53555, mi sento in vena di auguri quest'oggi. Comunque, neggiamo sia da Repubblica che da Corriere, pensate, aprono con questa notizia oltretutto con la stessa foto, entrambi dei siti. Ritrovate le copie della Zanzara, il giornale delle Cioparini che nel 1966 pubblicò l'inchiesta scandalo sull'educazione sessuale. E sì, il Presti dice, fu una tappa importante che anticipò il cambiamento sociale, divenuto incontenibile poi con il 68. L'8 febbraio, incontro degli studenti con una degli autori, con una delle autrici del giornale La Zanzara. Sì, perché La Zanzara era questo giornale studentesco di un liceo. E' da lì che prende poi spunto anche forse molto probabilmente la trasmissione di qualcuno che compete con noi, cioè di quegli là bravi, di quegli là un po' meno bravi di noi che fanno la trasmissione. No, vabbè, insomma, Cruciani, sono bravi, dai, Parenzo, sono bravi, sono bravi, sono molto bravi e anzi li salutiamo. Comunque sì, prendendo nome da questo giornale. Il giornale era La Zanzara, infatti, ritrovate, pensate come in titolo al Corriere, ritrovate le copie proibite della Zanzara, il giornale dell'Iceo Parini, per quell'articolo sul sesso prematrimoniale, pensate che tre studenti finirono a processo nel 1966. E allora vedete che certe cose tornano, lì c'era quella battaglia, adesso c'è la battaglia climatica, studenti che finiscono a processo anche oggi, studenti che finirono a processo nel 66 per una cosa che adesso per noi è normale. Allora forse, chissà, che anche adesso certi studenti finiscono a processo per certe battaglie che a noi sembrano esagerate o sembra che... No, sono d'accordo con il messaggio, ma con il metodo no, ecco, è il metodo no, è il metodo è loro, hanno quello, non è che possiamo far tanto. Ripensiamoci veramente e pensiamo al fatto che anche noi siamo stati quella roba lì e che avremmo voluto mettere a ferro e fuoco tutto quanto, per dopo però non avremmo neanche il coraggio a volte delle nostre azioni, invece c'è chi ha il coraggio delle nostre azioni, non mette a ferro e fuoco niente, anzi fa solo vedere un po' meglio, un po' di più che forse c'è un problema grosso da andare a risolvere. Comunque è molto interessante gli articoli che ci sono oggi sul Secorriere che Repubblica su questo ritrovamento, tra l'altro tutto appunto ricordiamo che ci sarà questo appuntamento l'8 di febbraio, soprattutto c'è ancora un giornalino all'interno della scuola che si chiama Zabaione, bel nome comunque, liceo Parini dà sempre grandi soddisfazioni, comunque c'è questa cosa e quindi la redazione del giornalino scolastico Zabaione, che è appunto l'erede della Zanzara, incontrerà appunto gli studenti e insieme agli studenti di quarta e di quinta dialogheranno con Claudia Beltramo Ceppi, ormai 76enne che torna al liceo Parini dopo 58 anni per appunto raccontare questa storia, averrà fatto appunto un'intervista e i ragazzi finalmente potranno parlare, capire meglio e magari anche capire come portare avanti anche le loro battaglie, un po' di sana contaminazione tra generazioni di quelle belle che possono raccontare delle storie e possono far sì che quelle battaglie di una volta magari aiutino le battaglie di oggi e magari si capisca anche dove si è sbagliato con le battaglie di una volta e che si possano portare avanti ancora meglio le istanze di oggi, le istanze soprattutto di una generazione che sta portando avanti delle istanze non solo interne a quella generazione ma che comunque vanno bene per tutti quanti noi, che è il mito climatico in primis. Coma cose, l'addio! Gianni Morandi, l'Alegria insieme a Giovanotti, 8 e 15 minuti, venerdì 26 gennaio, Good Morning Milano e siamo qui con il nostro ospite di giornata perché è venuto a trovarci Davide Borghi, buongiorno Davide buongiorno Fabio, buongiorno a chi ci segue in diretta Consigliere del Municipio 4, giovane consigliere, la politica ai giovani è una cosa che spesso diventieri dicono, ah i giovani non si avvicinano alla politica, tu sei la prova che non è così invece. Sì, ce ne sono tanti che si avvicinano, ne conosco tanti anche chiaramente per l'età quindi poi i giovani spesso stanno con i giovani e quindi sì, noi Municipio 4 abbiamo diversi giovani, come Paolo Democratico siamo 4 o 5 under 25 quindi diciamo che c'è tanta voglia e volontà di collaborare con chi ha più esperienza. Municipio 4, facci una carta topografica dove siamo Vi dico i quartieri che facciamo prima, forse Porta Vittoria, Porta Romana, Rogoredo, Corvetto, Santa Giulia, Forlanini, Mecenate, Salomone sono tutti i quartieri, 160.000 abitanti, forse un po' di più, comunque è una città, è una città zona sud-est della città diciamo più o meno, quella zona lì, 160.000 abitanti, praticamente sei il consigliere di un grosso comune, forse non fosse Milano, però tutto quello che comporta non essere un grosso comune, spesso volentieri, noi portiamo spesso questo discorso sul voglio ai municipi, forse forse qualche potere in più o comunque qualche delega in più dovreste averci per poter governare un po' meglio il territorio, anche perché insomma potreste fare tante cose, no? Il famoso decentramento di cui tanto si parla, Gaia Romani è l'assessore dedicata che sta lavorando secondo me molto bene, ma guarda io credo che sia difficile, lo pensavo quando ho iniziato a fare il consigliere municipale, lo penso tuttora, sia difficile delegare da parte di una giunta comunale, temi e questioni che spesso poi cambiano la città. Noi abbiamo comunque delle materie in cui un budget di spesa minimo possiamo permettercelo, ci viene dato sul verde, su alcune attività, profit e no profit, a livello culturale, sportivo, quindi un po' di risorse ci sono, certo non sono infinite, non sono tante e poi se hai calamità come ad esempio quella del luglio scorso in cui 5.000 alberi vengono abbattuti da una tempesta, ecco in quel caso spesso rischi che il tuo budget vada a risanare alcune dinamiche come quelle e quindi lo perde. Un po' però il decentramento si fa sentire quando ad esempio magari la giunta centrale, anche in buona fede, prende alcune decisioni e queste ricadono sui cittadini, come ad esempio tutta la bagarra sulla 73 e i parenti, perché non è sulla 73, no? Sì, ma guarda allora noi abbiamo avuto tra l'altro in audizione due giorni fa l'assessore Acensi che ha delineato un buon quadro, ha delineato quelle che sono le modifiche che andranno a fare rispetto al cambiamento che c'è stato da luglio. Quello che voglio ricordare, che ricordavo anche in consiglio, è che la delibera il documento, anzi sul piano di bacino che ristruttura e riprogramma tutte le linee del 2018, quindi a Rianna Censi c'era un altro assessore, ma indipendentemente dal colore politico, lì è stato secondo me un problema di ascolto, nel senso che noi forse avremmo inciso di più se avessimo ascoltato a febbraio le persone in un'assemblea pubblica dicendo noi non abbiamo più soldi, non possiamo più investire un milione l'anno sulla tratta della 73 dai ponti Alinati. Cioè quel pezzo di quanti chilometri sono? Ma non lo so, un paio, non lo so. Non arriviamo a quattro, diciamo, ecco un milione di euro costa, fate vedere cosa costa il trasporto pubblico quindi. Poi io vorrei sottolineare però che siccome ci si è resi conto che era un tratto importante anche perché serviva poi il parco, perché alla fine abbiamo un parco enorme che è il parco Forlanini con un corridoio verde che adesso si può percorrere in bicicletta da San Babila fino al parco, quello che diventerà il grande parco Forlanini su cui c'è un grande progetto e quindi la 73 è tornata a servire quel pezzo della 973 che era, adesso la 73 arriverà, aspettiamo di capire con che tempi perché poi va riorganizzato anche tutto il comparto degli autisti, ci sono nove autisti che guidano un autobus, le persone non lo sanno ma le risorse da mettere in campo sono tante e c'è carenza di autisti. Cioè per una linea servono nove autisti a settimana? Sì, non ricordo se è settimana o al giorno però servono parecchi. Anche al giorno molto probabilmente sì, non è una corsa sola quindi effettivamente. Esatto, e quindi il punto è l'ascolto, secondo me parte da lì, poi alcune cose verranno rimodificate, il Consiglio Comunale su proposte del Partito Democratico ha messo quel milione che aveva come emendamento al bilancio sulla 73, un segnale molto importante, nel senso che ci si è resi conto poi che serviva un asse fondamentale per la città, tenendo presente però che era una navetta quella, quindi che tutto l'asse Corsica 22 marzo Portavittoria ha usufruito di un servizio che era per il trasporto verso l'aeroporto. Quindi sarebbero partiti adesso potenzialmente sul tram 27 che prima parte la stessa tratta, abbiamo avuto diverse proteste e quindi alla fine si è iniziato nella direzione di ripristinare il servizio. Però ecco credo che a fronte di un bilancio comunque che deve fare i conti con investimenti da parte del Comune di 350 milioni di euro perché il miliardo che arriverà costare il trasporto pubblico locale non viene coperto solo dai biglietti e da quello che regione e Stato mettono, tenendo anche presente che mettono meno di quello che mettevano dieci anni fa e Milano ha due metropolitane in più, ha aumentato di diversi chilometri di vettura e quindi... Ma e c'è anche una richiesta, cioè i cittadini vogliono gli servizi pubblici diversi da dieci anni fa, anche perché gli diciamo che devono lasciare la macchina a casa, quindi giustamente vogliono che il trasporto pubblico arrivi... un po' troppo spesso volentieri lo vogliono proprio sotto casa e lo so, per ormai forse il trend è un po' quello, bisogna fargli capire che a volte si può, a volte non si può. Continuiamo a parlare con Davide Borghi, consigliere del Municipio 4, subito dopo Francesca Michelin con Solite Chiacchere. Francesca Michelin, Solite Chiacchere. Venerdì 26 gennaio, 8 e 24 minuti, qui con Davide Borghi, ancora qualche minuto prima della nostra pausa, Municipio 4, quali sono i temi caldi nel Municipio 4 in questo momento? Sì, abbiamo avuto appunto a Renacensi due giorni fa, ieri è venuto l'assessore Granelli a fare il punto su quelli che sono gli interventi alla sicurezza che il Comune sta mettendo in campo, anche con l'ausilio da qualche mese dell'ex capo della Polizia Gabrielli, che si occupa anche di coesione territoriale, oltre che di sicurezza. Allora, posso dirti i grandi progetti che noi abbiamo da qui alle Olimpiadi sono chiaramente le Olimpiadi, perché Santa Giulia è tutta l'area su cui vetterà poi i giochi olimpici invernali. E poi ne abbiamo la BEIC, per cui i lavori sono già partiti, teoricamente entro la fine del 25 dovrebbero finire anche lì i lavori, poi c'è il grande spazio dell'ex Macello che appunto verrà riconvertito... Sì, ma sono già partiti, c'è la parte della Vicunicolo su Via Lombroso dove sono già partiti e lì è un... per chi non lo conosce è un distretto enorme, è un isolato enorme e lì tra i diritti a paesi convenzionati, uno studentato dello IED, un quartiere, un isolato che diventerà a impatto sensibilmente ridotto rispetto a quelli diciamo attuali. Sono tutti progetti, poi abbiamo il campus del Conservatorio a Rogoredo, diciamo che sul piatto ci sono tante partite aperte e possiamo dire che il Municipio Quattro è vivo, la Biblioteca Calverata l'abbiamo inaugurata, sarà prima di Natale se non sbaglio, quindi è stato un mese, un mese e mezzo e anche lì è stato molto importante, un lavoro che ha coinvolto il quartiere, che ha parlato con le persone per capire che spazi volessero per ripensare la Biblioteca in funzione del quartiere, che è quell'ascolto di cui vi parlavo prima sui mezzi e per cui secondo me vale sempre la pena porsi in discussione. Ecco, l'ascolto è fondamentale nel lavoro che fate voi consiglieri municipali, come possiamo noi cittadini invece riuscire a capire come interfacciarsi in una maniera migliore? Cioè voi non siete l'ufficio per reclami, spesso mentre invece funziona così. Qual è il tuo sogno? Cosa ti auspichi? Che si riesca a collaborare in che maniera? Ma guarda, noi siamo un po' il primo gradino con cui le persone si interfacciano prima poi di arrivare al passaggio successivo che è il Comune di Milano. Secondo me il fatto di segnalare in modo puntuale quello che non va, lo dico in modo molto semplice, ci sono dei rifiuti abbandonati in una via, uno manda a me, manda a un consigliere, manda all'assessore che si occupa della partita, la foto con il civico e ne lo facciamo pulire. Cioè io credo che da una parte ci debba essere la responsabilità di chi governa di ascoltare e dall'altra quella di chi invece viene governato di collaborare. Cioè noi veramente ci impegniamo a risolvere i problemi in tempo reale. Abbiamo gli strumenti per farlo, progressivamente acquisiamo competenze. Io sto imparando molto da chi è in municipio da diversi anni e perché non avendo più scuole di partito, non avendo più formazione continua, noi siamo carenti da quel punto di vista. Però c'è possibilità di collaborare e c'è sicuramente la boia e la volontà da parte della politica territoriale, voglio dirlo, di municipio 4, della maggioranza penso anche del Comune di tornare a occuparsi delle persone. Se la politica non si occupa delle persone non capisco perché siamo qua, cosa ci stiamo qua a fare. Eh, spesso mentre infatti sembra un po' troppo che si occupi solo dei conti, sembra che siamo tanti ragionieri più che tanti politici. O delle famigerate poltrone, no? No, ma su quello magari neanche tanto, quello è un po' colunquista secondo me la poltrona. Però sul fatto che ormai qualsiasi cosa è dover fare una colonna in divisioni, fare conti percentuali, scorporare, manco forse l'assemblea di condominio. Eh, per dirti, nell'anno scorso nell'assestamento al bilancio abbiamo scelto come maggioranza in Comune di mettere quello che avevamo sui centri estivi. Ora, sì, la coperta è sempre quella. Non è corta, è quella. Cioè, nel senso, quindi se la tiri da una parte, dall'altra parte viene via, no? Dice, non è corto o lunga, è quella. È quella. Cioè, nel senso, in un letto matrimoniale se la moglie tira il marito... Sì, di solito fatti finisce calcioni o qualcuno con i piedi di fuori. Eh, sì, quindi è quella. Poi noi cerchiamo di farla quadrare, l'assessore al bilancio e tutta la giunta comunale cerca di utilizzare le risorse al meglio. Però, ecco, dire che si buttino via i soldi o dire che non c'è in modo oculato la percezione di come vado a investire le risorse, secondo me, è falso, ecco. Beh, il tema dei soldi è stato fuori anche perché adesso diventa 3 di miliardari, ma abbiamo alzato lo stipendio, vero? No, noi no, noi no, guarda. Ai consiglieri no? No, no, questa cosa, tra l'altro, è abbastanza singolare. Perché no, scusa? Non lo so. Faccio una battaglia per alzare l'oggettone di potenza che consiglieri municipali. No, allora, è stato questo. Diciamola bene, perché sennò sembra che ci siamo, ci siamo, si sono alzati lo stipendio. Il governo Draghi sceglie, siccome non si trovavano figure nei comuni con pochi abitanti, di aumentare tutti gli stipendi per fare in modo che qualcuno si candidasse. Ed evidentemente, se aumenti loro, aumenta anche quelli del Sinnaco di Milano. E quindi adesso gli stipendi sono aumentati. Non lo so perché consiglieri municipali no, è una domanda che... Che il presidente del municipio sì. Sì, anche gli assessori municipali, anche la presidente del consiglio del municipio. Non lo so, poi sai, noi non lavoriamo per il gettone, però ecco, già se passassimo noi veniamo pagati, io dico a Cottimo, non è Cottimo, però è il gettone. Cioè se noi ci siamo veniamo pagati, non abbiamo un'indennità fissa, mensile. Quindi già magari aumentare da 11 a 14 gettoni ogni presenza, siccome in commissione ne facciamo tanti consigli anche, potrebbe essere un'idea. Per esempio, però poi dopo si grida lo scandalo, le coste della politica, non si intende andare a vedere quali sono quelli veri. Però poi si intende andare a vedere quali sono poi anche, insomma. Sì, ma la politica ha un costo. Ah, è giusto questo. E chi si candida e chi vuole entrare in politica sa che in qualche modo i soldi li deve trovare. Cioè non è la questione del finanziamento pubblico ai partiti che è finita con Tangentopoli ci ha messo nelle condizioni di dire io do il 10% e tutti gli amministratori del Paese Democratico lo danno ai circoli territoriali perché la bolletta dei circoli la devi pagare e gli aumenti li abbiamo anche nei circoli. Quindi è un tema, ecco. Però la politica ha un costo. La politica è un costo, la politica va fatta da fare a dei professionisti. Questa è una battaglia che ho sempre portato avanti. Quindi insomma anche lì cerchiamo di staccarci a volte da questi slogan che ci vengono raccontati del fatto di... C'è quale competenza? Noi abbiamo purtroppo avuto un periodo dal 2013 in poi in cui stanchi del binomio polarizzato destra-sinistra tu hai avuto una terza forza che è emessa. Il punto è che ha svenduto l'oro colato della politica, cioè la competenza. E quando tu svendi la competenza in nome dello sventolare da un balcone nella tesserina dicendo abbiamo abolito la povertà la povertà non l'hai abolita, la competenza non ce l'hai e hai distrutto un modo di fare politica e di occuparsi della gente. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5 Davide Borghi è qui, se volete scrivergli è qua, potete fare le domande. Se siete poi di municivo 4 basta che mi chiedete della 73 che ne abbiamo già parlato, mi raccomando. Quello no, per il resto siamo qua. Andiamo avanti, analisa ragazza sola. Calcutta, due minuti, due minuti che dura sempre più di due minuti per lo sapermene, due minuti e poi la chiami... Se fai la canzone che chiama due minuti fa la durata due minuti Calcutta no, invece fai la canzone che chiama due minuti fa durare tre minuti qualcosa. Allora, un po' di serietà. Stata la serietà e la competenza che porta invece il nostro ospite Davide Borghi, consigliere del Municipio 4. Diciamo, sono tanti i temi sul territorio importanti. Io poi, non so se possiamo dire, non abbiamo parlato fuori onda però so che vai a fare una cosa importante domani. Volevo sapere se possiamo... Dimmi solo se possiamo parlarne. Sì, assolutamente, assolutamente. Perché mi hai raccontato un paio di cose. Domani, puoi dirlo tu dove vai? Io domani vado al Polichinico a donare il sangue. Ok. Sì, è una cosa che ho scoperto andando al liceo. Vennero una ragazza e un ragazzo e ci dissero che si poteva donare il sangue. Io rimase un po' così perché gli dissi ma il mio sangue, poi nel senso io come faccio senza. Poi ho scoperto che invece c'è la possibilità che si rigeneri. Quindi ormai da quando la legge me lo permette, cioè dai 18 anni, ogni tre mesi posso, nel senso che come peso, come età, se d'uomo ho la possibilità. Ci sei. La cosa interessante che mi dicevi, che potete fare un altro tipo di donazione, che si può fare una sola volta nella vita in Italia, che però se si sapesse un po' di più, prima di tutto non è così invasiva come si immagina, non ti infilano aghi nella schiena, non so perché abbiamo questa idea. Spiegamene tu però. Il siringone. No, è la donazione del midollo osseo. Anche lì l'ho scoperta perché andavo a donare il sangue e c'era un foglietto di ADMO, l'associazione del donatore del midollo osseo. È una donazione fondamentale, nel senso che salvi la vita. E la vita, posso dire, mi ha dato l'opportunità di donare la vita, nel senso che tu ti iscrivi al registro donatore nazionale, in questo modo ti tipizzano, cioè ti mettono in questo registro con un prelevo del sangue e poi rimani lì e aspetti. Mi sono iscritto fai a 19-20 anni, poi mi hanno chiamato un anno fa, perché era il dicembre 22, mi hanno detto, guarda, c'è un possibile donatore, tu te la senti ancora? Va bene, proviamo. E abbiamo fatto vari esami, quindi sono controlli su controlli, ecodome, varie tipologie di controlli, e poi arriva il giorno della donazione, che è semplicemente un prelevo del sangue che dura 4 ore, cioè nel senso, tu hai l'ago che da un braccio ti preleva il sangue e poi ti ridanno dall'altra parte quello che a loro non serve. Come fanno a stimolare la produzione delle cellule del midollo? Con un farmaco. Fai delle punture, come fossero quella della spalla, per la vaccinazione anti-covid e le fai, diciamo, a una distanza, un totto ore, per i giorni prima, i 4-5 giorni prima e arrivi lì e con questa produzione sovrastimolata tu riesci a donare tante cellule del midollo. Fatelo, fatelo perché è un'opportunità, veramente, io ho avuto questo dono, non lo so, non me l'aspettavo, quando mi hanno chiamato sono rimasto un po' così, caspita, però è importante, nel senso che salvi una vita, non so chi sia il ricevente. In quel caso ti chiamano perché c'è un ricevente compatibile, quindi sai già che il tuo midollo andrà a salvere la vita a qualcuno. quell'uno su centomila persone. Uno su centomila. Sì, è per questo che dico iscrivetevi perché è fondamentale, cioè più siamo più riusciamo a salvare vite ed è importante perché perché veramente la donazione è gratuita, è qualcosa che ti rimane e poi so che non era un cittadino del nostro paese, sono contento, sono forse ancora più contento, non so, non so nemmeno cosa dire. Sì, in Europa, da quanto capito, in Europa è un uomo più o meno che ha 30 anni e più o meno il mio peso perché deve essere compatibile, però ecco, è andata a donare, è fondamentale. Interessante che il tuo midollo non sia rimasto in Italia ma sia andato all'estero perché tu sei uno molto proiettato verso gli esteri, tu studi anche per cercare un giorno di fare una carriera diciamo verso anche un'internazionalità, no? Sì, relazioni internazionali, mi laureo adesso, ho mandato la tesi in storia delle relazioni internazionali qualche giorno fa e mi laureo a luglio, quindi sì. Non vale che il tuo midollo sia già andato avanti? No. Il credito in più non te lo danno. No, quello non me lo danno però il credito di aver salvato una vita è forse il più bello. Chiarissimo, chiarissimo. Ecco, la tua interesse per la politica è palese, diciamo così, ma da dove nasce? Come nasce questo interesse? Relazioni internazionali, politica territoriale? Ho iniziato a leggere il giornale in terza liceo, nel senso che sono passato, ero a liceo scientifico poi mi sono reso conto di avere interessi un po' più marcati nella parte umanistica e sono passato a quello che è il liceo Carducci vicino al passare dell'Oletto Milano e lì, siccome mio nonno aveva l'abbonamento al Corriere della Sera ho iniziato un po' a darci un'occhiata a me lo leggevo in intervallo non ti tornavo, eccetera. Poi, piano piano, non ho avuto... Non ti picchiavano i tuoi compagni? i tuoi compagni no. No, ti dirò di più. Quando finivano i compiti in classe e tu avevi il giornale sul banco a differenza del telefono che chiaramente ti avrebbero sequestrato il giornale no. Tu leggevi come leggessi un libro. Comunque, dopo... Poi abbiamo avuto la maturità fatta durante il Covid è stato un periodo complicato però in quel periodo perché era l'ottobre 2020 settembre 2020 volevo iscrivermi a un partito cioè volevo condividere con altre persone dei valori che per me fossero fondamentali. Scusate, tutti i partiti che girano proprio il PD. No, scherzo. È una battuta. Dico sempre che condivido i valori e gli ideali che ci sono nello statuto PD fondativo quindi del 2007 che poi ci siano avvicendati otto segretari e che il mondo sia cambiato l'Italia anche quello è... Molto di sinistra come dichiarazione complimenti mi piace quello è male fondativo mi piace mi piace Io sono tesserato a quello quindi poi ecco progressivamente ho seguito l'attività del circolo appunto dove sono iscritto a Milano e poi mi hanno proposto nel luglio del 21 di candidarmi in municipio il mio circolo è su municipio 3 lì poi abito in 4 quindi mi proposito di candidarmi lì ho accettato un attimo ho detto va bene proviamo è andata bene andiamo avanti Ti dico le frasi che si dicono in questi casi il circolo però sono tutti vecchi non so cosa farci è vero perché a 02 PD dove sono iscritto gli anni 30 sono tanti sì poi ci sono anche over 65 ma un buon mix che coniughi esperienza e freschezza è la chiave cioè noi lo vediamo in municipio 4 l'età media del PD è 40 anni quindi diciamo che è altissima effettivamente no no ci sono circoli che avevano c'era un circolo di qualche anno fa che l'età media era 65 media a 02 non lo so però chi governa il municipio 4 del PD ha l'età media di 40 anni e quindi vuol dire che se rigeneri la politica non se rottami attenzione ma se rigeneri e se metti insieme le parti con esperienza le parti più giovani con freschezza vinci vinci e lo stiamo vedendo appunto la differenza non è male qua tra rottamare e rigenerare effettivamente è interessante però si dice che anche se sfatiamo questi miti non so se sfatiamo cioè sì vabbè si vede che sei del PD sei vecchio dentro com'è sta cosa siete dei giovani vecchi sarò giovane fuori non lo so siete già vecchi ma no non siamo vecchi diciamo che abbiamo una visione del mondo che è legata a una storia che è legata a una cultura politica il PD e l'unione di due famiglie che per anni sono state in contrasto che poi si sono avvicinate al compromesso storico parlo della DC del PC cioè c'è una cultura profonda noi non siamo un partito suonato nel 2009 svendolando la bandiera dell'abbiamo abolito la povertà noi abbiamo una storia e la storia va difesa ce l'hai su con lo movimento no non ce l'ho su però quando svendi la competenza e svendi l'oro della politica c'è qualche problema l'uno vale uno è molto bello è molto sincero ma se tu diventi parlamentare con 158 voti su una piattaforma è un problema perché dov'è il radicamento del territorio dov'è l'ascolto dei cittadini dov'è la competenza maturata sul campo se vogliamo seguire meglio quello che fai dove possiamo trovare qualche informazione come possiamo seguire la tua azione politica sì allora intanto quello che stiamo realizzando lo trovate mio e della maggioranza vabbè io ho la pagina instagram che è davide underscore natio underscore borghi e lì trovate un po' quello su cui stiamo lavorando poi la mia mail è davide1.borghi chiocciolacomune.milano.it lì qualsiasi segnalazione non fosse anche di municipio 4 perché poi avendo contati negli altri municipi con gli altri amministratori è un attimo per noi se non si è già scritto all'amministratore contattarlo di guarda c'è questa necessità e poi mi trovate in municipio a tutte le sedute del consiglio in commissione seguo le commissioni sono online come vice della verde mobilità faremo una commissione lunedì congiunta con municipio 3 su quello che sai che poi ha fatto per la sosta irregolare quindi andremo ad analizzare tutto quello che c'è di abusivo perché si dice irregolare ma per me è abusivo e occupa le radici degli alberi occupa i marciapiedi occupa lo spazio pubblico che i bambini e le bambine non possono usare su cui gli anziani con disabilità che magari vanno in carrozzina non possono passare perché c'è un'auto e quindi analizzeremo quello poi martedì invece appunto sto preparando una commissione su tre incroci pericolosi che ci hanno segnalato i cittadini che raccogliamo in un documento e che porteremo poi in consiglio 8 febbraio per votarlo e quindi noi andiamo avanti ecco non ci fermiamo non ti chiedo chi del tuo partito ti sta più simpatico perché tanto non me lo dici ma invece di altri altri consiglieri dell'opposizione c'è qualcuno che li trovi bene o no? guarda se noi parliamo di competenza e non solo di di valori anche se poi chiaramente sono distanti dai miei ti posso dire anche i nomi Davide Rocca con cui lui è di Fratelli d'Italia un ragazzo che è stato secondo giro in municipio stato presidente della commissione di sicurezza lo scorso lui si occupa della gente tu pensa c'è qualcuno dall'altra parte senza demonizzarlo che si occupa della gente e io non ho nessun problema a dirlo nel senso che poi c'è una visione di ideale e politica diametralmente opposta però sulle questioni territoriali che può essere lui che va a riverniciare i muri di Calvairate con le persone a me che dicono durante una festa guarda non è illuminato il parco giochi qui e quindi ci attiviamo e mettiamo il palo della luce che mancava da qualche settimana ma il parco resta del buono ognuno fa la sua parte ed è una gara a rialzo cioè il compromesso lo vai a mettere sempre a rialzo continua ad alzare la competenza le capacità e vince il più bravo non quello che fa più schifo noi dobbiamo dirlo alle persone che la politica non fa schifo e che chi lavora per le persone lo fa con l'obiettivo di alzare la qualità ecco e non alzare la polemica e quella sterile soprattutto chiarissimo allora ragazzi io ti ringrazio davvero tantissimo per essere qui con noi ospite quest'oggi torna pure sul territorio a fare il tuo lavoro che da quanto sentiamo riesce a fare bene salutaci anche gli altri consiglieri allora anche quelli dell'opposizione che fanno bene il proprio lavoro insomma dai ogni tanto un po' di speranza ce la date pensare che magari la politica riesca a fare qualcosa di buono ma dai un po' di speranza ce l'abbiamo allora grazie mille Davide grazie a te buona giornata a tutti e a tutti andiamo avanti con la musica adesso è un pezzetto è un pezzone questo ah è un pezzone loro sono Yerosmith con Ragdoll e poi torniamo qui per salutarci sulla nostra sigla Crystal Radio Good Morning Milano a fra poco Yerosmith 8.55 minuti ben trovati qui per salutarci perché siamo arrivati alla fine della nostra puntata Good Morning Milano vi salutavi d'appuntamento a domani puntata ricca quella di oggi tanti ospiti tante informazioni che sono arrivate i collegamenti telefonici gli eventi della settimana a cui non vai e infine il consigliere del municipio 4 Davide Borghi tutto questo è quello che potete trovarvi tutte le mattine qui su Crystal Radio dalle 7 alle 9 con Good Morning Milano e dopo di noi invece Ambrogio Curti con Senti Questa la musica le storie tutto quello che fa un bellissimo racconto sulla musica fatto firmato prodotto mixato da Andrea scusate da Ambrogio Curti non ce la faccio mai a quest'ora veramente comincio a dare i numeri che poi non c'è nessun Andrea oggi qua non c'è nessun Andrea come ospite non c'è nessun Andrea come telefonata non so perché vabbè Ambrogio Ambrogio Curti e allora noi ci sentiamo domani eh sì sì ci sentiamo domani sempre qui alle ore 7 in diretta qui su Crystal Radio per raccontarvi Milano la città metropolitana e tutto quello che fa grande la nostra città ciao a domani ciao a domani non città metropolitana che ci sentiamo domani ti sentiamo domani